Benvenuti a tutti gli ascoltatori. Prima di immergerci nella nostra discussione odierna, vi invitiamo a premere il tasto iscriviti e a lasciare un mi piace. Questo ci aiuterà a crescere e a portarvi sempre nuove ed interessanti notizie. Attivate anche le notifiche per rimanere aggiornati su tutti i nostri futuri contenuti. Grazie per il vostro supporto. Oggi, con grande tristezza, dobbiamo affrontare una notizia che ha colpito profondamente il mondo della musica italiana. Pochi minuti fa è giunta una notizia davvero sconvolgente. Franco Tozzi, fratello maggiore del noto cantautore Umberto Tozzi, ci ha lasciati all'età di 79 anni. Franco Tozzi non era solo il fratello di un famoso artista, ma un uomo che aveva coltivato la sua stessa passione per la musica. Questa passione lo ha portato a lasciare il suo lavoro presso lo stabilimento della Lancia di Chivasso, per seguire il suo sogno nel mondo della musica. Un sogno che ha iniziato a prendere forma nel 1964, quando ha vinto il festival di Castrocaro con il brano Due case, due finestre. Il suo talento è stato riconosciuto subito e l'anno successivo, nel 1965, ha avuto l'opportunità di partecipare di diritto al prestigioso festival di Sanremo, in coppia con Johnny Tosen. Un evento che per molti artisti rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio nel panorama musicale italiano. La carriera di Franco Tozzi ha raggiunto un punto di svolta con la sua partecipazione a un disco per l'estate, dove si è classificato al secondo posto, subito dietro a Orietta Berti. La canzone che ha presentato in quella occasione, I tuoi occhi verdi, è diventata la sua opera più famosa, vendendo circa 800.000 copie. Un successo straordinario che testimonia il suo grande talento e la sua capacità di toccare il cuore delle persone con la sua musica. La perdita di Franco Tozzi è un evento che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica e nella vita di coloro che lo conoscevano e amavano. Umberto Tozzi, suo fratello, ha espresso il suo dolore in un commovente messaggio su Facebook. Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace, Franco. Ha poi condiviso su Instagram una foto in bianco e nero che li ritrae insieme, aggiungendo semplicemente, ciao Franco. La morte di Franco Tozzi è una notizia tragica che ci ricorda quanto sia preziosa la vita e quanto sia importante cogliere ogni momento per seguire le nostre passioni e realizzare i nostri sogni. proprio come ha fatto lui. Prima di concludere, vorremmo chiedere a voi, il nostro pubblico, di condividere i vostri pensieri su questa triste notizia. Come vi ha toccato la perdita di Franco Tozzi? Cosa pensate del suo contributo al mondo della musica? Vi invitiamo a scrivere un commento qui sotto per condividere i vostri sentimenti e pensieri. La vostra partecipazione è molto preziosa per noi. Grazie per averci seguito in questo momento di riflessione e commemorazione. Ricordiamo insieme Franco Tozzi, un uomo che ha seguito la sua passione e ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della musica. A presto.